la santa maria della morte si è bloccato lo school e quindi i materiali non sono venuti regolari hanno fatto partire questo che era di serva al volo ma sicuramente hanno saltato la situazione siccome poi la signora io la conosco, parecchie volte si portava la petana sua, si è fatta costruire una petana sua per evitare il problema, che l'hanno rubata, pure, non la sapevo stare alla signora, non a me, quando è arrivata la signora, perchè la signora gliela ha chiesto da mezz'ora fa, e la responsabilità non si fa nessuno, a me mi hanno detto, si usate ma non siete po' le pensione e la mettete là, venite giù e gli diamo una mano, perchè il mio servizio non me lo fa fare, perchè se poco poco volontariamente metto male e casca sta disabile, in galera ce l'ho io, devo iniziare a nessuno, ma si va adesso il cianfino, non è che è occupato per i pensioni, non è che il treno che viene sopra, questo è il problema, mi sono pure per lui, fatemi ripartire, come partire il treno, invece da si pensare solo per me, questo è il treno che non era meglio, non era meglio far far sì, ma questo è andato dentro a comunicare questo, fanno i partire, non è che non lo fa come capo, non lo fa come capo, mi fa come capo, mi fa come partire, la colpa n'è la sua eh, guarda qua la colpa, sembra che non lo rende bene, però a sua sicuro no, perchè c'è del problema, guarda che è massata la polizia, è che siamo tentanti pecoroni, perché non è la prima volta che è successa una cosa, è già visto altre volte fare. Sono stati in mezzo da qui, mi poi hanno messi sopra però, c'era una macchina dei disabili che non funzionava, poi ce l'hanno messa sopra e l'hanno spinta pieno.